Alfonso Signorini ha festeggiato il sesto anniversario con un pranzo emozionante nella sua trattoria d'infanzia, situata nel suggestivo Pertegà, a Seregno, nella provincia di Monza. Circondato da amici cari, il suo compagno, Paolo Galimberti, era al suo fianco, rendendo l'evento ancora più speciale. Benvenuti di nuovo su Il Gossip Paro Italiano. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un mi piace al video. Il vostro supporto è prezioso e ci motiva a continuare. Signorini ha deciso di rivivere i sapori della sua infanzia con un menù speciale, curato nei minimi dettagli, che ha suscitato emozioni e ricordi. Durante il pranzo, ha anche voluto ricordare con affetto il momento più difficile della sua carriera, con gratitudine per il percorso che lo ha portato fino ad oggi. Ora, guardando al futuro con gioia e speranza, Alfonso pensa alle nozze con Paolo come il prossimo importante passo nel loro percorso insieme, alimentando i sogni e i progetti per il loro futuro, grazie ancora per il vostro continuo sostegno e affetto. Continuate a seguirci per nuovi aggiornamenti e contenuti. A presto con un nuovo video, con tante sorprese e novità da condividere con voi.